Siamo tutti, una bellissima, una buonissima Ternana, lotta e pareggia Brescia, lotta e pareggia su un campo difficile, lotta e pareggia contro una grandissima squadra, una Ternana che ha iniziato il girone di ritorno diverso, con un girone di ritorno con una mentalità finalmente giusta alla categoria, Brescia-Ternana finisce 1-1 nonostante tanta Ternana e Brescia in controllo ma comunque pericoloso. Partita che inizia nel migliore dei modi, per la Ternana, Ternana subito aggressiva, Ternana che gioca con un 4-3-3 o così pare, Falletti, Partipilo e Pettinari al centro le punte d'attacco, Ternana che prova subito a pungere e dopo un po' riesce a trovare il gol. Il cross della fascia di Cesar Falletti, Sorensen di testa, mette la palla in rete e la Ternana va in vantaggio a Brescia e tanta tanta Ternana, tanto possesso palla e la Ternana a un certo punto fa anche il 2-0. Purtroppo annullato, tiro della Ternana, portiere respinge e Falletti tutto solo davanti al portiere segna ma purtroppo la palla sbatte sul braccio di Falletti e braccio tendente sulla mano, braccio con la mano. Purtroppo l'arbitro annulla, ammonenda anche Falletti il gol, dispiace, purtroppo è anche una frazione di secondo, portiere tocca, palla sbatte proprio nello stesso secondo, quindi Falletti non aveva forse neanche il tempo per fare diversamente. Dispiace perché sarebbe stato il 2-0. Poi il Brescia inizia a salire, inizia a prendere campo, inizia con le sue ripartenze a far male e ci riesce, cross dalla fascia, defende, va al centro, lascia l'uomo del Brescia libero, tutto solo, tira e fa gol. Purtroppo il gol è stato preso ancora una volta a difesa schierata, questo fa male, però oggi non è inciso tanto fortunatamente. Certo non è che con la partita di Brescia i problemi difensivi delle nostre fere sono risolti, però oggi a Brescia si è vista una Ternana completamente diversa perché poi la Ternana è stata pericolosa ancora, nel finale Donnarumma tira e prende la traversa, insomma c'è anche qualche recriminazione, un'ottima Ternana. C'è anche da ringraziare Capuano perché praticamente ha salvato un gol sulla linea con un episodio dubbio che praticamente Capuano leva la palla dalla porta, Giannarilli la prende con le mani e il Brescia recrimina. Comunque buona Ternana, buona Ternana, a me è piaciuta la grinta, l'approccio di questi ragazzi finalmente diverso alle partite, mi è piaciuto il fatto che se l'anno scorso e quest'anno, cioè se l'anno scorso anche quest'anno con l'Ascoli, quindi nel girone di andata, la Ternana il primo tempo era quando prendeva gol, oggi è completamente diverso perché la Ternana se tutto procedeva bene, quindi se il gol di Falletti era regolare, a fine primo tempo stava 2-0, poi per carità avrebbe potuto segnare il Brescia 2-1, però comunque oggi invece la partita l'ha indirizzata sul binario giusto la Ternana facendo il gol, il primo gol, quindi mi è piaciuto questo, questo gliene va dato atto, va dato atto a questi ragazzi di aver comunque lottato, di aver comunque giocato una partita ad armi pari, di essersela giocata a Brescia con la possibilità anche di vincerla, o comunque non perderla o comunque non perderla con disonore, quindi buona prestazione, forse è merito del centrocampo a tre, non lo so, però è stata una buona squadra, è stata una squadra compatta, ordinata, più ordinata del solito, ha giocato una partita di categoria, un buon punto viene fuori da questo match, ora si guarda alla sfida del 5 febbraio, al libero liberato contro la regina, Ternana ha ancora tempo per crescere, Ternana ha ancora tempo per allenarsi, per perfezionare gli schemi, per vedere le cose che non sono andate oggi e per migliorare ancora, e nel frattempo aumenta anche il bottino in classifica, perché la Ternana è a quota 24 punti, e un punto che fa morale portato via su un campo comunque di una squadra che ha tutto il potenziale per dire e per fare tanto in questo campionato, poi altre cose insomma, l'odiamo e così la Ternana, ma più che la Ternana, Donnarumma ha celebrato la sua 200esima presenza nel campionato di Serie B. Grazie.